con la quale potrete diciamo ricevere la notifica dei nuovi video se volete dare un sostegno al canale potete farlo cliccando sul tastino cliccando sul tastino col dollarino e se volete abbonarvi al canale potete anche abbonarvi al canale ad esempio cliccando sul tastino abbonati bene bene cerchiamo di capire quindi in questo caso che cosa fare diciamo quando una persona non si vuole impegnare con te cosa fare e cosa non fare quando una persona non si vuole impegnare con te uno degli errori principali salutiamo la nostra Sissi uno degli errori principali è quello di cercare di convincerlo di cercare di persuaderlo perché se una persona non vuole se un uomo in questo caso ma mutatis mutandis varrebbe anche per una donna non si vuole impegnare con te e tu diciamo salutiamo Rosi e tu fai esattamente l'attentativo di persuaderlo di convincerlo dai ma mettiamoci assieme salutiamo la nostra greenettina green apple ovviamente tutto questo non ti porterà dei buoni risultati tutto questo non ti porterà assolutamente dei buoni risultati e ti impedirà di ottenere diciamo qualunque cosa fondamentalmente quindi questo è un po' il concetto di fondo il concetto che dobbiamo prendere in considerazione quindi dobbiamo evitare assolutamente dovresti evitare assolutamente di cercare di persuaderlo perché innescheresti questa volta dei meccanismi di psicologia inversa al contrario cioè la persona l'uomo in questo caso anziché coinvolgersi maggiormente si decoinvolgerebbe e otterresti proprio il risultato otterresti proprio il risultato contrario che anziché farli impegnare si disimpegnerebbe maggiormente e troverebbe anche tutto questo abbastanza diciamo negativo fondamentalmente quindi questo è un qualcosa di estremamente negativo quindi deve imparare invece a fare dell'altro intanto diciamo non sarebbe l'ideale non arrivare a questa situazione in cui questa persona in qualche modo ce l'ha con te tra virgolette si allontana da te, ti dà le briciole non dovresti mai arrivare a quel punto lì perché una relazione non è un qualcosa che accade in uno schiocco di dita non è un qualcosa che accade in un battuto di ciglia ma è un qualcosa che accade nel lungo termine nel lungo periodo quindi questo è importante prendere in considerazione quindi per fare questo dovresti diciamo imparare dovresti tranquillamente imparare a gestire al meglio la situazione e praticamente intanto lanciargli delle sfide tenendo presente che gli uomini di solito amano le sfide non devi essere tu diciamo a cercare di far sì che lui si impegni con te ma deve essere lui a cercare di far sì che tu ti impegni con lui questo è il primo punto fondamentale quindi se questa persona non si impegna salutiamo anche Roxy con te o impegna nei termini in cui tu vuoi ovviamente perché poi ognuno ha le sue aspettative le sue idee non necessariamente dobbiamo vedere l'impegno come finalizzata un matrimonio come finalizzato cioè tu devi avere e questo lo dico sempre la tua idea di quello che vuoi cioè devi avere veramente il tuo obiettivo nessun vento è favorevole come dicevamo per il marinaio che non sa dove andare quindi mentre tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che che sa dove andare gli uomini di qualità amano le sfide brava la nostra Sissi gli uomini gli insicuri li temono fondamentalmente no non essere quindi tua cercare di ad esempio come dire dargliela senza che neanche ti ti venga chiesta fondamentalmente no ci sono donne che la danno almeno aspetta che te la chieda cioè non farti vedere vogliosa insomma di dargliela perché questo non porta a nessun risultato ma non soltanto la patonza diciamo dargli anche il tuo interesse il tuo coinvolgimento il tuo come possiamo dire le cose fondamentali no della tua vita quindi è importante diciamo renderci conto renderci conto di questo la prima cosa è diciamo la prima cosa è quella di se uno non si vuole impegnare con te fargli intendere che neanche tu ti vuoi impegnare con lui e quindi non sei disposta ad avere magari se non ti va a te di averlo una relazione diciamo così in cui sei una delle tante fondamentalmente no vuoi essere una delle tante o vuoi essere l'unica devi fare la tua scelta la scelta è sulla base del tuo obiettivo perché ripeto noi siamo 12 miliardi di persone no 8 miliardi di persone già andava avanti di 4 miliardi siamo 8 miliardi di persone su questo pianeta e probabilmente avremo 8 miliardi di visioni di esigenze sentimentali effettive diverse non ho detto che tutti abbiano le stesse esigenze sentimentali effettive anzi non soltanto è difficile ma praticamente è impossibile è impossibile avere esattamente le stesse le stesse visioni fondamentalmente quindi tu devi sapere chiaramente quello che vuoi e una volta che sai quello che vuoi da lì non ti devi spostare perché se tu inizi a spostarti inizi a dire beh qua là su giù forse ma non so vediamo se tu inizi ad agire in questo modo non è che otterrai dei grandi risultati salutiamo la nostra Roxy tra l'altro iscrivetevi al canale della Roxy che è il canale Pepe Rosa ha fatto uscire un altro video interessante quindi che ho già postato quindi iscrivetevi al canale di Pepe Rosa e quindi questo è un altro punto molto importante seconda cosa devi tenere presente che devi essere comunque attraente perché ovvio che se sei un carciofo non attirerai tra l'altro perché hai le spine non devi essere un carciofo devi essere diciamo una donna che piace una donna che sa di piacere quindi una donna che si prende cura di sé il prendersi cura di sé è anche un è anche un come dire un modo per migliorare la propria autostima se una persona non si prende cura di sé se una persona non si prende cura della propria autostima non verrà considerata una donna interessante quindi le cose base diciamo per prendersi cura di sé andrebbero fatte che lo ripeto non mi stancherò a mai di ripetere lo sono beh un'alimentazione corretta attività fisica e il giusto look per diciamo apparire al meglio di quello che sei ovviamente non è che devi cercare di essere diversa da quella che sei ma devi cercare di valorizzare come sei se hai 50 anni non puoi sperare di avere un look da ventenne o di competere in giovinezza con le ventenni per dire ma devi comunque migliorare te stessa quindi la femminilità secondo me è la cosa che attira maggiormente la femminilità è la cosa che attira maggiormente gli uomini gli uomini di qualità poi gli uomini che hanno visioni particolari che cercano le donne virago che cercano le donne mascoline ce ne saranno anche ma come dire secondo me non hanno una grande qualità o comunque sono comunque il 5% della gaussiana salutiamo Davie mentre la maggior parte dei uomini va comunque a cercare la femminilità quindi lascia perdere il look unisex e adotta uno stile femminile questo un po' in tutti gli ambiti della tua vita cioè deve essere perché come dicevo prima se vai sempre in giro in tutta mimetica tutti i giorni e poi quando esci con quello che ti piace ti metti diciamo a posto ti metti femminile sarà un qualcosa che non sarai abituata ad avere non far parte della tua indole non far parte del tuo carattere no cioè è come quelle che vestono sempre perché ne so la lingerie i mutandoni della nonna poi utilizzano magari una lingerie più particolare quando vedono un uomo e non sono abituati a portarla come ad esempio i tacchi non sono abituati a camminare sui tacchi quindi diciamo che devi imparare a coltivarla la femminilità la femminilità deve essere coltivata deve essere sviluppata non deve essere un qualcosa che tu non hai quindi dedicare un po' di tempo a te stessa ti aiuterà sicuramente ti consentirà sicuramente di raggiungere dei risultati e questo è importante anche avere un buon carattere è molto importante avere un buon carattere è un'altra cosa che secondo me serve moltissimo perché diciamo una persona sempre incazzata sempre depressa fa incazzare fa deprimere quindi è un po' diciamo l'antiseduzione quindi certo ovvio che ci sono momenti giù ci sono situazioni particolari però in linea di principio avere una buona reazione alla vita è importante e poi ovviamente essere naturali e anche questo essere naturali nel nel modo di fare perché un uomo si sgancia quando vede che tu sei artefatta come quando una donna finge l'orgasmo ad esempio cioè non c'è niente di peggio secondo me cioè o finge talmente bene che lui non se ne accorge o se finge diciamo il piacere quando non può piacere è il modo migliore per far ammosciare un uomo fondamentalmente no? perché avviene qualcosa avviene qualcosa di di strano no? non produce cioè la finzione da questo punto di vista quando una percepisce che è finto è un punto è un punto fondamentale non devi far capire che che in qualche modo sei che in qualche modo sei come possiamo dire stai fingendo fondamentalmente quindi devi poi imparare a trovare il tuo piacere diciamo no? essere una persona diversa dalle altre trovare la tua unicità è un'altra cosa che secondo me è molto importante è fondamentale quindi queste sono tutte cose importanti imparare essere ottimisti è un altro punto importante no? far vedere che hai un buon carattere ovviamente non bisogna neanche esagerare dall'altra parte fondamentalmente se lo chiamo giusi fondamentalmente non devi neanche esagerare dall'altra parte perché ad esempio se ti atteggi diventi eccessivamente altezzosa ti atteggi da diva del cinema beh difficilmente riesci a diciamo insomma potresti essere vista come una montata una un po' gli uomini di qualità non apprezzano questo tipo di donne ecco queste sono un po' le cose principali dal punto di vista del del look fondamentalmente no? ovviamente poi è anche importante l'interazione quando tu ti manifesti in questo modo troverai degli uomini che vogliono interagire con te tra questi sia online che offline tra questi uomini che vogliono interagire con te devi in qualche modo trovare scartare tutti quelli che non si presentano nel modo giusto perché come dire nei social ad esempio ci sono quelli che ti fanno capire manifestatamente che vogliono insomma ti mandano la foto del cicciobello insomma ti mandano la foto del del pippolo certo che se tu ricevi la foto del pippolo insomma vuol dire che questo qua non ha che altre intenzioni chiediti piuttosto perché ha mandato a te la foto del pippolo perché diciamo una donna che si presenta sexy sì ma non al stesso tempo austera difficilmente viene diciamo riceve degli approcci di questo genere no? è ovvio che anche nei locali se vai che ne so in un pub in un locale eccetera eccetera vestita leopardata vestita tutta da zoccolone della competizione beh certo che riceverai tanti avance ma nessuno di questi se tu vuoi se tu vuoi un one night stand va bene ma se tu vuoi una relazione stabile nessuno di questi avrà voglia di vederti come che ne so la madre dei suoi futuri figli oppure una donna con la quale intraprendere una relazione quindi alla fine tu quando una persona non si dimostra intenzionata non si dimostra di cercarti quando una persona non fa nulla diciamo fondamentalmente per volersi impegnare in una relazione avrà avuto un minimo input della donna eh beh sì certo esatto esatto a volte neanche tanto minimo magari dipende insomma comunque questo è che se uno non si vuole impegnare con te quanto tu vuoi oppure non vuole avere una relazione semplicemente tu devi evitare di interagire con questa persona o perlomeno interagire solo frenzonandolo è ovvio che non devi dargliela perché se il tuo obiettivo è avere una relazione e non è darla è ovvio che se tu gliela dai soddisfi le sue esigenze ma poi non vedrai soddisfatte le tue e quindi questa è un'altra regola fondamentale della seduzione della comunicazione noi possiamo soddisfare le esigenze di qualcuno se questo qualcuno soddisfa anche le nostre esigenze altrimenti diventa un rapporto diciamo a senso unico che non porta a nessun risultato quindi queste ad esempio sono cose importanti quando diciamo interagisci con un uomo ad esempio non devi stare lì a parlare troppo a dire ma qua ma là diventare logoroica le donne logoroiche allontanano gli uomini quindi certo interagire è importante ad esempio al primo appuntamento o le prime volte che incontra un uomo è tassativamente vietato ad esempio cercare in qualche modo di si dovrebbe essere bloccato ma è ripartito bisogna assolutamente cercare in qualche modo evitare assolutamente di mettere vincoli logici no evitare di lanciarli degli sguardi romantici evitare di dirgli ah ma come ci sposeremo noi un giorno cosa faremo qua là perché tutto questo allontana gli uomini no è ovvio che non è che devi stare neanche a parlare delle pecore di lana merinos però che cosa fare per stimolare devi fare qualche domanda aperta fare qualche domanda aperta in generale no puoi anche parlare degli hobby delle passioni che ne so delle cose che gli piacciono quindi fare qualche domanda aperta aspettare la risposta e ricalcare la risposta per andare avanti e protrarre nel tempo la conversazione ecco queste cose qua sono tutte cose che possono essere molto utili perché senza diciamo neanche sapere esattamente cosa vuole quella persona senza neanche sapere esattamente cosa sta dicendo se tu ricalchi e porti avanti ti ricalchi e porti avanti beh otterrai dei risultati importanti perché si creerà una prima sintonia e quindi quest'uomo penserà che comunque siete simili e questo non va a soddisfare sicuramente le esigenze logiche ma va a soddisfare le esigenze emotive per cui questa persona percepirà veramente di avere un buon rapporto con te e sarà lui a desiderarti sarà lui piano piano a desiderare di compiacerti sarà lui piano piano a desiderare di conoscervi tu devi limitare a manifestarti manifestarti nel migliore dei modi però come dicevamo prima facendo vedere non soltanto cosce tette culo ma esibendo anche la cultura il buon carattere la gentilezza esibendo anche diciamo cose più soft in modo tale che questa persona inizia a valutarti piano piano come una possibile compagna di vita secondo quelle che sono le esigenze che dovrebbero essere esigenze di entrambi è evidente che se due persone entrambe diciamo a posto però con esigenze totalmente diverse è meglio lasciar perdere quello non funzionerebbe cioè se tu hai a che fare con una persona che è completamente diciamo se tu hai a che fare con una persona che è completamente diciamo ha una visione di vita diversa dalla tua tu vorresti sposarti avere tanti bambini quello non vuole matrimonio e non vuole figli beh queste sono cose che devi prendere in considerazione cioè perché queste tematiche diciamo che sono tematiche valoriali è buona cosa giusta per tutti e due evitare di intraprendere relazioni di questo genere perché alla fine non c'è una persona negativa o una persona positiva ci sono soltanto due persone che hanno esigenze diverse e comunque sia se le esigenze sono diverse a lungo andare i problemi verranno fuori e ci sarà sempre perlomeno una persona insoddisfatta perché certo quello che magari è più coinvolto si adegua e dice ah vabbè vuole tanti bambini io non ne voglio gli faccio dei bambini per dire però poi mette al mondo delle persone e non è che è un qualcosa come dire non è come prendersi ma anche un pappagallino per dire alle sue esigenze no quindi se non puoi guardarlo non prenderlo quindi 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 se le esigenze sono completamente diverse è un qualcosa che è destinato a fallire ma soprattutto anche a generare la sofferenza e se le tematiche sono importanti a lasciare anche degli strascichi no perché salutiamo la carampagnocca perché se tu ad esempio accetti di andare a convivere con una persona ma tu non vorresti convivere ti troverai proiettati in una situazione in cui non avrai poi nessun beneficio quindi è molto importante in questi casi lasciare assolutamente perdere salutiamo anche Pink è molto importante in questi casi non portare avanti più di tanto una relazione no quindi se la visione della vita è diversa non c'è giusto lo sbagliato bisogna semplicemente prenderne atto e guardare oltre prenderne atto e guardare oltre quindi questo è un punto importante perché spesso la persona che è emotivamente più coinvolta cede da un punto di vista logico e razionale ma questo cedere da un punto di vista logico e razionale ti porterà solo dei cattivi risultati cioè come dire o accetterai delle situazioni tipo convivenza poi se metti al mondo pure dei figli vabbè che non è il vostro caso che oramai siete in meno pausa da secoli però mettere al mondo un figlio con la persona sbagliata non è sicuramente una cosa buona e giusta insomma quindi ci sono alcune cose che andrebbero assolutamente evitate di fare quindi è molto importante anche capire per questo che l'amore in amore è la fretta e cattiva consigliera è molto importante capire bene chi hai davanti quali sono i suoi valori quali sono qual è la sua visione della vita è quello è quello che vuole fondamentalmente anche ad esempio avere una che ne so tu non vuoi la convivenza oppure tu vuoi la convivenza lui la vuole tu non l'accetti o lui l'accetti insomma anche avere queste situazioni sono cose estremamente negative sono cose estremamente negative perché ti porteranno una delle due persone a stare male e quindi siccome la coppia si vive in due non è la coppia non è fatta da diciamo da una persona singola anche se sei tu quella che tra virgolette ho raggiunto il risultato e l'altra quello che non l'ha raggiunto alla fine diciamo la coppia stessa avrà dei problemi ci saranno degli sconquassamenti quindi secondo me è importante mettersi assieme a persone che hanno diciamo una stessa perlomeno simile al 70% visione della vita questo vale in tutti gli ambiti no? questo è è tutti questi questo vale per tutti gli ambiti della nostra vita quindi evitate ad esempio di cercare di convincere una persona a fare qualcosa e ma guarda che sarebbe bello fare un figlio sarebbe bello andare a convivere sarebbe bello creare una relazione sarebbe bello un cazzo perché se quello ce l'ha già dentro questa cosa perché fa parte del suo essere ma se tu glielo fai accettare torto collo glielo fai accettare come una volta no? c'erano il matrimonio riparatore no? le donne che restavano incinte e lui se la doveva sposare perché lei era incinta e il matrimonio riparatore no? si chiamava quindi questi matrimoni riparatori poi al giorno d'oggi ovviamente magari non ci saranno più perché le persone faranno più attenzione però spesso ci si sposa anche per compiacere qualcun altro compiacere i genitori compiacere sentire le pressioni sociali tutte le amiche che ti dicono ma tu hai già 30 anni 40 anni 50 anni 60 anni oppure avere anche una relazione stabile insomma bisogna sempre definire qual è l'obiettivo qual è la cosa che vuoi fare qual è la tua visione della vita e cercate un'altra persona che perlomeno abbia una visione della vita sovrapponibile alla tua al 70% non dico al 100% perché tra l'altro un po' di differenza aiuta anche un po' di differenza da stimoli nuovi ma la sovrapposizione al 70% della visione della vita è fondamentale ob torto collo significa è un qualcosa che significa fare la cosa contro voglia ob torto collo e l'avevano imposta mi sembra i romani a qualcuno adesso non ricordo esattamente l'episodio che era stato sconfitto che doveva passare col collo basso col collo basso i soldati sconfitti dovevano passare con la testa bassa tra le due schiere diciamo di di soldati vincitori diciamo quindi ob torto collo era una sorta diciamo di umiliazione di umiliazione che veniva data di umiliazione che veniva data al allo sconfitto fondamentalmente quindi che faceva qualcosa nella locuzione normale ob torto collo significa fare qualcosa che non ti va di fare fondamentalmente questo è un po' è un po' il concetto è un po' il concetto di fondo fondamentalmente questo è un po' quello che quello che bisogna fare le cose sotto costrizione diciamo sotto imposizione diciamo di di qualcun altro e quindi se tu fai le cose appunto ob torto collo o fai le cose ob torto collo diciamo anche agli altri significa che significa che praticamente questo e questo tra l'altro ob torto collo viene anche utilizzato veniva anche utilizzato per gli animali quando ai cavalli quando ai cavalli si voleva un cavallo che gli abbassavi i cavalli hanno l'orgoglio diciamo e quindi per tra virgolette domare un cavallo si piegava al collo quando piegavi il collo al cavallo quindi era una pratica che veniva messa in atto nell'antica Roma fondamentalmente ai nemici ma anche agli animali gli animali per domarli fondamentalmente se il cavallo piegava al collo faceva una sorta una sorta diciamo di di sottomissione fondamentalmente una scelta di sottomissione ecco quindi comunque bisogna fare attenzione bisogna fare attenzione come dire bisogna fare molta attenzione perché dobbiamo non dobbiamo cercare di trasformare una persona ma dobbiamo cercare di trovare una persona che possa essere la persona giusta per noi fondamentalmente quindi questo è un è un punto molto importante è un punto fondamentale d'altra parte dobbiamo tenere presente che il mondo è pieno di persone quindi è più molto più facile molto più facile sedurre cioè trovare la persona adatta a te che cercare di trasformare una persona diversa questo però contrasta con la radice delle emozioni no? perché molte donne ad esempio si innamorano del bad boy sperando di farlo diventare un bravo ragazzo ma lo fanno anche molti uomini molti uomini si innamorano della zoccola e sperano di farla diventare santa molte donne si innamorano del libertino e sperano di farlo diventare un uomo nei secoli fedele come l'arma dei carabinieri ecco questo non funziona se tu cerchi di fare questo non otterrai nessun risultato quindi se una persona non fa quello che vuoi o non è dato a te semplicemente allontanalo non stare a perdere tempo la cosa fondamentale è quello di diciamo la cosa fondamentale è quella di evitare assolutamente di perdere tempo anche perché siete già anziani siete già anziane e quindi non dovete dovete perdere tempo non dobbiamo né cambiare noi né cercare di far cambiare l'altro dobbiamo semplicemente cambiare persona perché una persona giusta esiste si tratta semplicemente di trovarla e di non lasciarci trascinare troppo dalle emozioni perché se ti fai trascinare troppo dalle emozioni le emozioni rovineranno fondamentalmente la tua vita bene per questo video è tutto metti un like iscriviti al canale attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video seguimi su tutti i canali di youtube e ti do appuntamento al prossimo